Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un prodotto che Otterbox pensa e realizza intorno ad iPhone 5. Parliamo di una cover, come facilmente potete capire già dall'immagine che vedete in questo momento, nello specifico è una Armor Series. Dello specifico, capiamoci, è un prodottino pensato per andare a proteggere il vostro melafonino da cadute, dall'aggressività che l'acqua può imprimere sul telefono nel momento in cui tenta di entrarvi in contatto, è un modo quindi per andare a proteggere il vostro prezioso melafonino, consideriamo che il telefono in questione può andare da un costo di circa 650-950 euro, a seconda delle varie occasioni d'acquisto che andate a sfruttare, pertanto il prodotto in questione è sicuramente un pregio interessante da considerare nel momento in cui per esempio utilizzate il vostro iPhone per andare a fare attività sportiva, magari all'aperto, magari lo portate in spiaggia, lo portate in piscina, lo portate dove vi pare e riuscite quindi a proteggerlo in maniera migliore rispetto ad avere una tradizionale cover magari in policarbonato, magari in pelle, simipelle, comunque qualcosa che mantiene l'iPhone facilmente aggredibile. Nello specifico il prodotto vediamo cosa contiene, vediamo quindi di aprire la confezione, ovviamente è pensato per funzionare, si intende la gamma, anche sulla famiglia Galaxy, fino ad oggi vedo che è disponibile anche la variante per Galaxy S3, controllate comunque sempre l'integrità dei sigilli, vediamo quindi adesso di farvi vedere, abbiamo un blister anche nella parte interna, vediamo adesso di zoomare un attimo, andiamo a concentrarci innanzitutto sui vari dettagli, notiamo per esempio la chiusura, come visibile abbiamo un paio di cerniere particolarmente evidenti, è ovvio che nel momento in cui noi andiamo ad inserire il nostro melafonino, vi da anche il benvenuto, ci sono anche una sorta di rapide istruzioni, come visibile Welcome to Planet Otterbox, vediamo adesso di aprirlo un attimino, nel frattempo vi facciamo vedere il prodottino, così dovrebbe essere visibile, per quanto riguarda l'insieme di istruzioni, vediamo, vi fa essenzialmente il sunto di come si procede all'installazione, come potete apprezzare, esce un attimo dall'inquadratura, come potete apprezzare, essenzialmente vi si danno le istruzioni, una decina di passaggi per procedere all'inserimento del tutto per quanto riguarda un uso quotidiano, per quanto riguarda il prodottino, come vedete abbiamo la protezione, per quanto riguarda il pannello frontale, abbiamo la replica del tasto home, vediamo anche per quanto riguarda l'accessibilità inferiore, come potete apprezzare abbiamo la possibilità quindi di accedere al vano audio, nel momento in cui per esempio ci interessa poter gestire le eventuali cuffiette, tasto power nella parte superiore, nonché i tasti per gestire il volume. In base a dove andate a rifornirvi normalmente con i vostri prodotti, l'elemento Otterbox in questione può costarvi intorno a una cinquantina di euro, rimane ovvio che in base alla fortuna, in base al periodo, tale prezzo può essere comunque variabile. Nello specifico fino ad oggi non ho visto offerte particolari, anche perché il prodotto è uscito di freschissimo, pertanto dipende dalle vostre necessità, se vi serve subito mettete in conto circa una cinquantina di euro di spesa per portarvi a casa questo prodotto. Lo spacchettamento termina così, non c'è altro da mostrarvi, a breve comunque galleria fotografica, dopo di chi lo metteremo in funzione e vi faremo una sorta di panoramica sul suo utilizzo con la recensione finale. L'unboxing termina così, vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social li abbiamo attivati per voi, siamo sulle piattaforme principali, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, così da permettere a voi di seguirci con estrema facilità e rimanere quindi aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online presto da Giuseppe Ragozzino. Grazie. 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 Grazie.